Salve a tutti, anzi salve a tutti, oggi parleremo del lama, il lama riesce a stimare la quantità di pioggia che cascano nelle diverse zone e grazie a questa stima di lama 3 all'erte gialla, arancio e rossa. Durante l'alerta del codice arancio ci sono i soggiornati sull'evoluzione del meteo, fare massima attenzione a sottopasse, argini, punti, se l'edificio in cui ci si trova è in una avia potenzialmente allagabile, non sostare nelle cantine ma salire ai piani superiori, se è a piedi o in alto, allontanarsi dal luogo allagabile e raggiungere un punto sovreregbato, ma stando lontano da pendii e scarpate potrebbero franare, condividere le informazioni sull'alerta e comportamenti da adottare. Buon lavoro a tutti!